Ciao ragazzi su questo nuovo vlog Io ci presentiamo In verità non sono solo io Ma siamo in due di noi Io mi chiamo Asso E poi ci sarà un altro mio amico Che si chi faremo ogni singolo video Insieme Lui verrà fra poco Perché non so dove è andato Non lo trovo Né in casa non ci sta Fuori non ci sta Fuori a qualcuno non c'è Non lo trovo da nessuna parte Allora in questi video Logicamente faremo video sul computer Solo sul computer E ogni volta a settimana Faremo Faremo tutto quello che dite voi Infatti in descrizione aggiungeremo la nostra email Il nostro contatto di facebook Voi ci cliccherete e scrivete Tutto quello che volete Fate finta che state giocando Il gioco della bottiglia E voi dite Fai questo Quello e questo E noi lo faremo Mi raccomando Tanti mi piace e tanti commenti Vediamo Aspettate Mister Presente Ah eccola Prego Bella ragazzi Qui è il vostro mister troll Noi siamo nuovi su youtube E Volevamo provare un po' Ad aprire un canale E Vedere come andavamo Noi avremmo Vorremmo fare come serie Tipo minecraft online Oppure Non saprei Però Potete suggerirci voi Le serie da fare Nella pagina di facebook Quindi Se vi è piaciuto il video Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi alla pagina di facebook Che trovate in descrizione Ciao Ciao